Ciao a tutti, prodotti terminati del periodo. Ho accumulato un po' di prodottini nella mia borsa di beautiful e ve li faccio vedere. Dicevamo, prodotti terminati del periodo. Ho terminato il Winnie's Lavatrice, questa confezione in plastica da quasi due litri. Molto buono, sapete che io compravo la ricarica ma mi hanno comprato la confezione da due litri. Poi, sempre quanto al detersivi, ho terminato il Winnie's Amorbidette, sapete che sono i miei preferiti, si sa, ma è una novità. Poi, sempre quanto ai detersivi, ho terminato il Napisan che io aggiungo al detersivo. Se lo sapete, il Napisan è un additivo igienizzante che rimuove i miei batteri, elimina i odori e il violenza. Io lo aggiungo sempre a un lavatrice. Poi, per quanto riguarda il food, ho finito i Bonta Nuova Frutta Drink, questa volta al gusto fragola. sapete che sono i miei preferiti, però io preferisco quelli bianchi. Non è farsi sbagliata, ho preso quelli alla fragola. detersivi e food. Per quanto riguarda la persona, ho terminato i pazzoletti Penderly, il pacco da, non c'è scritto ma c'è un pacco di pacchetti, l'ho terminato. ho terminato i linee spettare blu 10 ultra, sapete, non mi rilungo in questo. Ho terminato i miei rasoli preferiti, che sono quelli della Wilkinson, quelli con tre lame, che hanno la testina flessibile. ho terminato anche il bagno schiuma che mi è stato regalato l'anno scorso, ma ne basta veramente poco e dura un'infinita, anche se è una boccettina abbastanza piccola. Lo shower gel, l'artesina della Liche Cosmetici. Liche Cosmetici ha un sito internet e rivendola nei punti vendita. Qui c'è al centro commerciale le terrazze. è stato buonissimo, poi ha un buonissimo profumo, molto buono, mi ricordo dall'infanzia. E niente, anche il prodotto a Trento, molto carino, www.lichecosmetici.it se volete andare a informarvi. E io questo l'ho terminato. Invece ho terminato, vabbè, l'ho dovuta ricontare perché questa era finita. il silicone Patex io lo uso per fare i portachiavi decorati, le cover decorate, tutte le cose personalizzate. Io uso quello della Patex, quello giallo e nero. L'ho dovuta ricompare, ma una confezione così costa 3 euro dai cilievi. quindi ci fate una vita intera. E ho... non so se metto nei terminati, però ho distrutto il mio povero portafoglio di Carpisa. è veramente conciato, ma... poverino, se lo avete, è mezzo... mezzo distrutto. E... dovrò buttarlo. L'ho veramente martoriato. E' un... più di un anno... sì, più di un anno che ce l'ho. E... niente. perché si è rotto qui. Non so neanche se mi convenga riaggiustarlo o no. Non lo so. Però questo mi piaceva un sacco. L'ho bisogno scorsa, mi piaceva tantissimo di Carpisa. Però... credo dovrò buttarlo. E niente. I prodotti terminati sono terminati! e niente. Lasciate un like e un commentino con quello che avete terminato voi. Quello che avete terminato voi in questo periodo. iscrivetevi al canale e attenzionate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i miei video. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!